Nulla è ancora ufficiale se non la lista dei candidati foggiani del Movimento 5 Stelle. L'annuncio arriva da Pescara, dove nel fine settimana si sono riuniti i grillini. In provincia di Foggia, nei collegi plurinominali, correranno Giuseppe D'Ambrosio, capolista, deputato uscente, Maria Luisa Faro, imprenditrice di San Nicandro Gargano, Giorgio Lovecchio, imprenditore foggiano e Francesca Troiano, psicologa di Manfredonia. Al Senato, collegio plurinominale Puglia 1, i candidati saranno Alfonso Ciampolillo, capolista, candidato uscente, Gisella Naturale di Torre Maggiore, Vincenzo Garruti e Cinzia Maria Di Nunno di Bari. Per quanto riguarda i collegi uninominali, la scelta sarà fatta nelle prossime ore, direttamente da Beppe Grillo e Luigi Di Maio. Tutto da definire nelle altre coalizioni, i potenziali candidati sono sempre Giandiego Gatta e Micaela Di Donna, Forza Italia, Giuseppe Mainiero, Fratelli d'Italia, Splendido e Fanelli, Lega, Tarquinio, Noi con l'Italia. Nel centro-sinistra, Bordo e Colomba Mongello dovranno solo scegliere Camera o Senato. Per la coalizione di Libere Uguali, dopo le parole di D'Alema, si aspetta solo l'annuncio ufficiale della candidatura di Gianna Fratta.